Eccoci, buonasera. Il telegiornale sarà ovviamente anche dedicato alle notizie sull'85esimo giorno di guerra, ma ci sono altri fatti che incombono. Innanzitutto c'è stato un inatteso Consiglio dei Ministri, durato poco, 10 minuti, ma sostanzialmente nel Consiglio dei Ministri Draghi ha avvertito, governo e maggioranza, entro la fine di questo mese, quindi entro la prossima dozzina di giorni, bisogna fare la legge sulla concorrenza, perché la scansione dei tempi del PNRR non ammette più dilazioni. Il provvedimento sulla concorrenza ha dentro tante amaterie spinose, a questo punto il governo procederà a tappe forzate anche con la fiducia, si parla delle concessioni balneari e di tanto altro. Ma oggi è il giorno in cui Draghi ha parlato a Camera e Senato sulle questioni della guerra e sono emerse ancora una volta le prese di posizioni distanti di tante forze politiche. Quello che si è spinto più in là, questa volta, su una linea apparentemente lontana da quella dell'esecutivo, è stato proprio Salvini. Ora la pace, basta armi e condistingo anche i 5 Stelle che hanno chiesto ancora una volta che si voti sulla linea dell'esecutivo. Ma come vedremo c'è la guerra che incombe con le sue notizie che sono anche dal campo, ma anche dal punto di vista della diplomazia e delle questioni che riguardano le sanzioni. Ma ci sono altre vicende. Quel vaiolo delle scimmie, questa nuova affezione di cui si parla, c'è un primo caso sicuro in Italia e ce ne sono altri due possibili. Come ha detto il professor Rezza in queste ultime ore, tutti allo Spalanzani di Roma ricoverati. E poi quella vicenda terribile di cui dovremo per forza parlare ancora, della tragedia all'asilo dell'Aquila. E se avremo tempo, spero proprio di sì, saluteremo anche, se n'è andato a 79 anni, Vangelis, uno dei grandi della musica, anche associata ai grandissimi film del nostro tempo. 30 secondi, i titoli. Draghi convoca un consiglio dei ministri d'urgenza, pressing sui partiti per lo stoppa, liti e distingue sui temi delle riforme. A cominciare dal disegno di legge sulla concorrenza, più volte rinviato. Necessario per il Premier il via libera entro fine maggio, altrimenti potrebbero essere a rischio i fondi del PNRR. Il consiglio dei ministri ha già autorizzato la fiducia, qualora si rendesse necessaria. E prima del consiglio dei ministri il Premier, nell'informativa alle Camere, ha auspicato che si lavori a un cessate il fuoco alla ripresa dei negoziati per non aggravare la crisi umanitaria e alimentare per la guerra in Ucraina. Ma ai termini della pace deve dettarli Kiev, ha ricordato e riaffermato Draghi che sugli aiuti militari ha ribadito la posizione comune con l'Unione Europea. Reazioni dure dei 5 Stelle che chiedono il voto in aula, ma di traverso anche Salvini, che si dice contrario a un nuovo invio di armi. Biden ha ricevuto alla Casa Bianca la Premier svedese Anderson e il presidente finlandese Nini Esto, provettendo tutto il sostegno possibile per un rapido ingresso nella Nato, Erdogan permettendo. Il Senato americano ha approvato altri 40 miliardi di aiuti per Kiev. Sul versante russo Mosca si è detta pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina. Se Kiev si dichiarirà disponibile, ha detto il vice ministro degli esteri russo Rudienko. Per la prima volta si sono parlati, anche se soltanto al telefono, i capi di Stato Maggiore russo Gerasimov, che è ricomparso così in pubblico, e quello degli Stati Uniti, Milley. Il ritorno di Gerasimov alle cronache ha fatto cessare il mistero che lo riguardava, scomparso dopo un presunto attentato a Izium in Ucraina, assente dalla parata del 9 di maggio. Sul campo continua la resa dei militari dell'Azovstal. Ha deposto le armi anche il numero 2 di Azov, Palamar, e ha chiesto l'ergastolo per il giovane soldato russo che ha ammesso di aver ucciso un civile. Primo contagio in Italia di vaiolo delle scimmie. Lo ha contratto un uomo di ritorno dalle Canarie. Ora è ricoverato all'Istituto Spallanzani di Roma. L'Istituto Superiore di Sanità ha attivato una task force. Sono sotto osservazione altre due persone che presentano sintomi compatibili. L'infezione è provocata da un virus simile al vaiolo, meno grave se diagnosticato per tempo. Si diffonde ovviamente tra scimmie, ma anche ritoritori. In Europa sono già decine i contagiati. E' morto in Francia il compositore greco Vangelis, musicista di talento, faceva parte degli Aphrodite Child e poi è stato colui che ha firmato grandi musici e grandi successi per il cinema. Momenti di gloria, la colonna sonora con cui vinse l'Oscar, ma anche Missing, Blade Runner. Aveva scritto anche le musiche delle Olimpiadi di Sydney e Atene e dei mondiali di calcio di Corea e Giappone. 79 anni fa era nato in un piccolo centro della Tessaia. Buonasera, quindi questa volta, questa sera dopo 85 giorni di guerra, apriamo il giornale però con un'altra notizia perché due ore fa Draghi ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri, una riunione che è durata soltanto 10 minuti. Ma il tema era quello non della guerra, delle armi, delle prospettive, di un'ipotesi di proposta di pace che Di Maio ha consegnato peraltro proprio oggi al Segretario Generale dell'ONU. No, il tema era il disegno di legge sulla concorrenza che deve essere varato a tambur battente entro questo mese di maggio se no si rischia di saltare con gli aiuti del PNRR. E scusate se è poco. Una convocazione rapida, preavviso minimo, un Consiglio dei Ministri ancora più rapido, 10 minuti in tutto. Mario Draghi ha voluto dare un messaggio secco al suo governo e attraverso i ministri e i partiti che lo sostengono. Il PNRR, sfocato nell'agenda dei media, causa guerra ma vitale per il Paese, non può essere messo a rischio. La legge delega sulla concorrenza che ne è una delle condizioni deve essere approvata entro il 31 maggio, se necessario, con la fiducia. Il mancato rispetto di questa tempistica, dicono fonti di Palazzuchigi, metterebbe a rischio il raggiungimento di un obiettivo fondamentale, punto principale del programma di governo. Una stretta inaspettata che ha colto di sorpresa i ministri riuniti per comunicazioni del Presidente del Consiglio, provocata dall'ennesimo colpo di freno sul punto critico per il centrodestra delle concessioni balneari, contenuto oggi in una nota congiunta dei due capigruppo di Lega e Forza Italia, Romeo e Bernini. Sul tema dei balneari sono necessari ulteriori approfondimenti per arrivare a un testo condivisibile, quindi condiviso. Non c'è ancora nessun accordo, scrivevano oggi, dicendosi pronti a una mediazione. Di fatto un ulteriore allungamento dei tempi e un no ai numerosi aggiustamenti del provvedimento diventato bandiera per Lega e Forza Italia e cavalcato anche da Giorgia Meloni, che ne avevano già indebolito una piena riapertura del mercato, nel nome della tutela delle imprese titolari. Un aggiustamento che la Commissione europea chiede da anni e che appunto con le scadenze del PNRR non è più possibile rinviare. E' anche un segnale politico più ampio del Premier e più esteso, che non vuole finire imbrigliato nella campagna elettorale, come si è visto anche nel discorso in Parlamento sulla guerra in Ucraina. C'è un grande lavoro fatto dai senatori e di tutte le forze politiche, c'è bisogno di un ultimo passaggio, vedremo se con la fiducia o con un chiarimento all'ultimo miglio, ha detto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il 5 Stelle d'Inca, mentre dal Ministro del Lavoro Orlando è arrivato sostegno alla stretta di Draghi, chi mette a rischio il PNRR per ragioni di propaganda elettorale, anche di fronte a un'intesa raggiunta che tiene conto dei punti di vista delle categorie, si assume un'enorme responsabilità, ha detto. A nome della delegazione governativa di Forza Italia, non totalmente sovrapponibile alla leadership parlamentare, ha parlato Renato Brunetta. Il PNRR si rispetta da Forza Italia sia alla calendarizzazione entro maggio e anche alla fiducia. Appoggio alla linea del Premier, fiducia compresa anche da Matteo Renzi, da Carlo Calenda e dal PD, Lega e Forza Italia studiano la risposta. Appoggio alla linea del Premier, fiducia compresa anche da Matteo Renzi, da Carlo Calenda e dal PD e anche dal Movimento 5 Stelle attraverso il Ministro Patuanelli con un post su Facebook, Lega e Forza Italia studiano la risposta. Arrivata poco fa in una nota, l'obiettivo è salvare lavoratori e imprese, scrivono Bernini e Romeo, ottimisti su un possibile accordo. Una situazione incandescente quindi in una giornata già, come dire, non banale, visto che Draghi in mattinata ha parlato sia alla Camera sia al Senato, anzi prima al Senato e poi alla Camera, sui temi della guerra, delle armi, delle prospettive di pace. E lì c'è stata una evidente divaricazione. Intanto cosa ha detto Draghi? Per impedire che la crisi umanitaria continui ad aggravarsi, dobbiamo raggiungere il prima possibile un cessato e il fuoco e far ripartire con forza i negoziati. È uno dei passaggi più applauditi dell'informativa sulla guerra in Ucraina che Draghi affronta prima al Senato e poi alla Camera. Informativa al posto dell'originario Question Time, ma che non prevede un voto. Con il Premier che aggiorna il Parlamento su un conflitto giunto all'85esimo giorno. La speranza russa di conquistare vaste aree del paese in tempi brevi si è scontrata con la convinta resistenza del popolo ucraino. Premette Draghi per spiegare che se oggi possiamo parlare di tentativo di dialogo è grazie al fatto che l'Ucraina in questi mesi è riuscita a difendersi. Dunque l'aiuto italiano, anche l'invio di armi, è servito a questo scopo e ora il quadro è cambiato. L'Italia si muoverà a livello bilaterale e insieme ai partner europei e agli alleati per cercare ogni possibile opportunità di mediazione. Ma dovrà essere l'Ucraina e nessun altro a decidere che pace accettare. Anche perché una pace che non fosse accettabile da parte dell'Ucraina non sarebbe neanche sostenibile. Canali diplomatici aperti, nonostante l'espulsione di 24 diplomatici italiani decisa ieri da Mosca, un atto ostile, lo definisce Draghi, pressioni sulla Russia con le sanzioni. Italia in prima fila anche per la crisi umanitaria provocata dalla guerra, con oltre 116 mila ucraini accolti nel nostro paese. Ma il Premier ricorda che oltre a quella umanitaria si rischia la crisi alimentare, soprattutto in Africa e Medio Oriente, se non si sbloccheranno le forniture di grano bloccate dai porti ucraini. E poi c'è la crisi energetica, con il governo che sta cercando di ridurre la dipendenza italiana dal gas russo. Ma una parte del Parlamento, Vedi 5 Stelle e Lega, aspettava parole chiare, soprattutto sulle armi, su eventuali nuove forniture a Kiev. Draghi ricorda a tutti le regole di ingaggio. L'Italia continuerà a sostenere gli sforzi dell'Ucraina per respingere l'invasione russa, in stretto coordinamento con partner e alleati. E la risoluzione, approvata a marzo dal Parlamento a larghissima maggioranza, sottolinea, ha impegnato il governo a sostenere Kiev dal punto di vista umanitario, finanziario e militare. Il governo ha riferito più volte sul tema al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha sempre riscontrato la coerenza del sostegno offerto rispetto alle indicazioni e agli indirizzi del Parlamento. Così parlò Draghi, ma come detto, le forze politiche della maggioranza sono andate in ordine sparso. Di sicuro lo strimento dell'invio delle armi, stando ai risultati ottenuti dopo 85 giorni, possiamo dirlo senza dubbio, non è efficace per costruire la pace. Siamo certi, ripeto, che un voto parlamentare possa solo rafforzare e non indebolire l'azione politica del governo. A lei, Presidente Draghi, chiediamo su questo coraggio. La richiesta al Presidente del Consiglio di sottoporsi a un voto sul sostegno dell'Italia all'Ucraina la formalizza il capogruppo alla Camera del Movimento, Davide Crippa. Verifica necessaria perché rispetto alla risoluzione votata a marzo che autorizzava l'invio di armi fino al 31 dicembre di quest'anno, molto è cambiato, spiega Crippa, pronunciando in aula le stesse parole che dice fuori il capo del Movimento, Giuseppe Conte. Crippa, che nel suo intervento cita Macron, è lui che ha detto che non bisogna umiliare Putin. E invece si parla solo di armi, Biden ha disposto un invio senza precedenti e Johnson non esclude sconfinamenti in Russia, aggiunge il deputato 5 Stelle. Posizione critica che al Senato trova riscontro nelle parole di Matteo Salvini. Quando qualcuno, anche in quest'aula, rinnova l'invito a inviare altre armi e al massimo gli operai italiani tireranno la cinghia, io non ci sto. Il leader della Lega chiede più sforzi per la pace, maggiori sostegni per imprese e lavoratori italiani, a differenza dei 5 Stelle, non chiede il voto di verifica però. Salvini interrotto dal brusio dell'aula quando rilancia il ruolo di Papa Francesco come mediatore, e ancor più quando sostiene che Draghi deve convincere Putin a ritirare la candidatura di Mosca ad ospitare l'Expo 2030 per favorire quella di Odessa. Salvini che riserva la battuta più velenosa a Luigi Di Maio, ministro degli esteri, che definendo Putin un animale ha solo complicato le cose. Problemi interni alla larga maggioranza, immersi clamorosamente con l'elezione ieri della forzista Stefania Craxi alla presidenza della Commissione esteri al posto del rimosso Vito Petrocelli. Divisioni tra le forze che sostengono il governo, messa in evidenza dall'opposizione e dalla russa, fratelli d'Italia, che però sull'Ucraina sostiene la linea del governo. Ho ascoltato il suo intervento con molta attenzione, ma ho anche registrato gli applausi che arrivavano. Non erano mai di tutta la sua maggioranza, quasi mai, a pezzi. Ma troppi incidenti di percorso rischiano di far uscire definitivamente di strada la macchina, aveva commentato il segretario del PD Letta, che risponde così oggi alla richiesta di voto in Aula dei 5 Stelle. Le parole di Draghi di oggi, per quanto ci riguarda, sono parole complete. Sono le parole che danno la linea, che è quella giusta, che noi sosteniamo. Aggiungo anche, ci sarà bisogno di tornare in Parlamento, di ridiscutere, di votare. Noi non ci sottraiamo, non abbiamo nessuna paura né di voti parlamentari, né di discussioni parlamentari. E andiamo alla guerra vera e propria. Intanto dal punto di vista della diplomazia, oggi passi e incontri importanti. Arrivano alla Casa Bianca accolti dal Presidente Biden, la Premier svedese Andersson e il Presidente finlandese Ninisto, che viaggiano a grandi passi verso l'adesione alla Nato, su cui pesa però lo spettro del vetto turco. Per questo i colloqui servono a capire come smussare la posizione di Ancara. Con la Svezia e la Finlandia la Nato sarà più forte, dice Biden, a cui fa eco anche il segretario generale Stoltenberg, con fido in una decisione rapida. Ma da una parte all'altra dell'oceano risuonano le parole di Erdo, anche bolla. I due paesi come nido di terroristi. Non cambieremo idea, assicura. Come non cambia idea la Russia, che continua ad adossare la responsabilità dello stallo dei negoziati a Kiev. Negoziati, ai quali spera di dare una spinta all'Italia, che ha presentato alle Nazioni Unite un piano di pace che prevede il cessato il fuoco, la neutralità dell'Ucraina e un nuovo patto di sicurezza internazionale. Mentre il Senato americano ha dato il via libera ad altri 40 miliardi di aiuti militari e umanitari all'Ucraina, il totale sale così a 54 miliardi di dollari. I due paesi si accusano a vicenda anche sull'altro grande tema, quello della crisi alimentare. Da Kiev, il ministro degli esteri accusa la Russia non solo di uccidere e stuprare gli ucraini, ma anche di ridurre alla fame altre popolazioni del mondo. Secondo Kuleba, è l'Occidente la guerra di Putin, il conseguente blocco dei porti ucraini che impedisce le esportazioni. I carri armati che interferiscono nella semina starebbero provocando carestia e fame. La Russia ribalta le accuse a provocare le carestie sono le sanzioni europee. Di questo si è parlato anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU questo pomeriggio. La Russia crede che usare la fame come arma può riuscire dove la sua operazione non è riuscita. Spezzare lo spirito dell'agente ucraina, ha detto il segretario di Stato americano Blinken. Cibo e ovviamente energia, intorno alla quale si gioca l'altra grande partita tra Mosca e l'Unione Europea. Ma è proprio in seno all'Unione Europea che si è creata non poca tensione. Da un lato Bruxelles si impegna per portare avanti le sanzioni contro Mosca e per non cedere ai ricatti di Putin. Dall'altra c'è la reale esigenza di approvvigionarsi di energia, l'indipendenza da quella russa richiede tempo, di mandare avanti il business, di rispettare i contratti con i propri clienti. Oggi dalla Commissione Europea è arrivato l'ennesimo ammonimento. Le aziende pagano il gas russo in euro o dollari e se pagano i rubli violano le sanzioni, ha detto il portavoce Mamer, riferendosi al fatto che nelle ultime settimane numerosi operatori energetici hanno cominciato a trovare degli scamotage per rispettare le sanzioni inflitte a Mosca ma cercare comunque di prevenire un taglio del gas, qualora Mosca non ricevesse i pagamenti nella valuta richiesta. Secondo il Cremlino, circa la metà delle 54 società straniere che acquistano gas da Gazprom ha aperto conti bancari in rubli. Vediamo la situazione sul campo. A Mariupol il capo del battaglione Azov è ancora trincerato, rinserato dentro i bunker che stanno nel sottosuolo, sotto l'acciaieria Azovstal è uno degli ultimi che sono restati, a quanto pare anche il suo numero due Palamar si è arreso. La notizia militare del giorno non arriva tanto dal campo, dove pure prosegue senza però grandi progressi l'offensiva di Mosca nel sud-est dell'Ucraina, ma da quanto riportato dall'agenzia di stampa statale russa TASS e che riguarda la conversazione telefonica intercorsa tra il capo dello Stato Maggiore Congiunto statunitense Mark Milley e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, Valery Gerasimov. Ed è una notizia perché segnala che Gerasimov, del quale si erano perse le tracce una ventina di giorni fa dopo una visita al fronte con annesso possibile ferimento in seguito ad un attacco ucraino, è vivo ed esercita ancora le sue funzioni, sfuggito a depurazioni che invece, secondo l'intelligence britannica, avrebbero già riguardato il comandante delle unità delle guardie carrista e il viceammiraglio che era al comando della flotta russa del Mar Nero, Ray, di aver gestito male la prima fase dell'invasione. Una cattiva gestione, sottolineata sul fronte opposto anche dal presidente ucraino Zelensky, che afferma come presumibilmente la Russia comincerà a usare armi laser per risparmiare missili dopo averne sganciati in questi quasi tre mesi oltre 2000 la maggior parte di quelli che aveva, la prova, secondo lui, del completo fallimento della strategia militare russa. Sul campo, come accennato, l'85esima giornata di guerra trascorre all'insegna di uno stallo che prosegue da giorni con i russi che provano a guadagnare terreno nel Donbass con attacchi contro Seviero Donetsk ormai quasi completamente circondata dalle forze di Mosca contro Liman e contro Bakhmut nella regione di Donetsk. Intanto, nelle zone occupate dai russi, non smette di farsi sentire la resistenza ucraina, in particolare a Melitopol, dove un treno blindato russo con dieci vagoni e dieci serbatoi di carburante è deragliato ed esploso dopo che le forze di Kiev avevano fatto saltare le rotaie. Melitopol, città del sud a metastrada tra Kherson e Mariupol, qui continuano a non essere chiare le notizie circa le evacuazioni dei combattenti asserragliati nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal. Mosca sostiene di tenerne in custodia 1.730, tra cui 81 feriti. Kiev non conferma, mentre un comandante del reggimento Azov, Oleg Supereka, spiega che tra gli uomini usciti dall'acciaieria non ci sono solo quelli di Azov, ma anche i regolari della 21esima e della 36esima brigata. I feriti, dice, non se la passano bene, ma sappiamo che i russi li stanno curando, che è ancora dentro, con armi a disposizione, credo continuerà a difendere il paese. Intanto a Kiev va avanti il processo al sergente russo Shishimarin, accusato dell'assassinio di un civile ucraino disarmato di 62 anni. L'accusa ha chiesto l'ergastol, lui invece chiede perdono e afferma di essere stato costretto a sparare dagli ordini dei suoi superiori. C'è una notizia che inquieta l'Europa, una vicenda, un fatto, che è la circolazione di questo fantomatico virus, il vaiolo delle scimmie. È un'affezione particolare, il primo caso isolato in Italia. Altri due sospetti. Massima attenzione, ma nessun allarmismo. Si chiama Monkey Pox, o meglio, vaiolo delle scimmie, l'ultima allerta sbarcata in Italia dopo il Covid. Oggi l'Istituto Superiore di Sanità ha istituito un task force di esperti e ha allertato le regioni, subito dopo che allo Spallanzani di Roma è stato isolato il primo caso in Italia, un uomo appena tornato dalle Canarie. I cacciatori di virus, così vengono chiamati, sono già sulle tracce di tutti i suoi contatti. Ci sono altri due casi sospetti. L'Istituto Superiore di Sanità spiega che questo virus è della stessa famiglia del vaiolo, ma che si differenzia per la minore diffusività e gravità. È presente soprattutto in Africa e si trasmette dall'animale all'uomo, soprattutto da primati e piccoli roditori. Il primo caso è stato segnalato in Gran Bretagna lo scorso 7 maggio. Ora i casi accertati sono saliti a 13, tra Regno Unito, Portogallo, Spagna e Italia. Qualche decina negli Stati Uniti, ma sono molti quelli sospetti. Il fatto è che la maggior parte dei pazienti non ha fatto recentemente viaggi in aree endemiche e quindi ormai è accertato che si stia trasmettendo da uomo a uomo, soprattutto attraverso il droplet e i rapporti sessuali. Dato che il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto, però i focolai tendono generalmente ad autolimitarsi. A differenza del terribile vaiolo che l'OMS ha dichiarato e radicato nel 1979, questo virus ha sintomi lievi, febbre, dolori muscolari ed eruzioni cutanee. E si risolve in un paio di settimane di riposo, solo in alcuni casi è necessario ricorrere a farmaci. Le cause di questa nuova diffusione del virus si spiegano nel calo dell'immunità, dopo che è stato abolito l'obbligo di vaccinazione, in Italia era il 1981. E ora sono più a rischio proprio alle persone più giovani, quelle non immunizzate. Ma a favorire la circolazione sono anche i viaggi più frequenti. Il Centro Europeo per la Prevenzione delle Malattie a giorni consegnerà un rapporto sulla valutazione del rischio. intanto raccomanda a tutti gli enti a informare sul pericolo legato ai rapporti sessuali a rischio. A Berlino, per il G7 della Salute, il Ministro Speranza ha già informalmente parlato con gli altri ministri per un'azione di controllo e allerta a livello comunitario. E siamo alla vicenda di L'Aquila, quella bruttissima vicenda, quell'auto senza controllo che doveva essere parcheggiata e che senza freno a mano è andata a rovinare su un asilo tra i bambini che giocavano. Evidentemente c'è un problema di audio sul servizio. Non usciva l'audio del servizio, trattandosi non di un articolo qualunque, ma trattandosi di un pezzo molto delicato. Niente, abbiamo dei grossi problemi con questo servizio. Allora l'unica cosa che possiamo fare, scusandoci, è andare in pubblicità e dopo recupereremo questo servizio, a meno che non ci siano... No, allora scusate, prima di andare in pubblicità, sperando di poter recuperare anche il servizio sull'Aquila, vogliamo ricordare Evangelis, quel grande musicista che è morto oggi. Chi ha la mia età lo ricorda, sin dai tempi degli Aphrodite Child, un complesso che portò una nuova musica con Rain and Tears e altre canzoni bellissime. E poi è diventato un grande musicista con la sapienza che lo ha aiutato a essere importante per grandi artisti italiani e poi per grandi colonne sonore. Da momenti di gloria a Blade Runner e non solo. È tempo di morire. La scena madre di Blade Runner non sarebbe mai stata così epica senza quella musica in contrasto con la piovato Los Angeles del futuro reinventata dal genio di Ray Scott che per la colonna sonora di quello che sarebbe stato il suo film più fortunato aveva chiesto aiuto a un altro genio, Evangelis, un film epico nelle mani di un greco nato per l'epica. Nome d'arte di Evangelos, di Seas Papatanathius, era nato a volo in Tessaglia, talento puro, uno dei pochi grandi musicisti che hanno sempre suonato a orecchio senza studiare composizione, autodidatta da quando aveva 4 anni. Premio Oscar per la miglior corona sonora per il film Momenti di Gloria nell'82 dopo aver trascorso gli anni 60 e 70 tra Parigi e Londra dove ha suonato moltissimo. Ha fondato con Demi Rousseau il gruppo rock Aphrodite's Child. Polistrumentista, ha fondato gruppi di ogni genere e registrato album che hanno venduto milioni di copie nel mondo pubblicando oltre 20 dischi da solista tra cui anche la storica musica della nostra pasta barilla. E poi naturalmente il cinema che lo pone ai vertici musicali di quella disciplina. Tra i suoi capolavori, Evangelis, ha composto le musiche anche per Alexander di Oliver Stone e Missing di Costa Gravas. E allora recuperiamo il servizio sull'Aquila. Un mazzo di fiori bianchi, il cancello chiuso, l'asilo vuoto, il cortile sotto sequestro. Il giorno dopo la tragedia dell'Aquila un'intera comunità è sotto shock per la morte di un bambino di 4 anni nel luogo dove avrebbe dovuto sentirsi ed essere più al sicuro, l'asilo. Dopo aver indagato per omicidio stradale e lesioni la donna che ieri ha lasciato l'auto proprio davanti a questa discesa per andare a prendere le sue due gemelline, la Procura e la squadra mobile dell'Aquila stanno facendo accertamenti sulla sicurezza all'esterno e negli spazi circostanti la scuola. A breve potrebbero esserci perciò altri indagati. I periti devono verificare se la recinzione sfondata dalla Passat prima di travolgere i bambini fosse a norma. Una tragedia segnata anche dalla sfortuna, dice l'avvocato dell'indagata, rivelando che la rete non era ancorata al muro, ma a terra. La donna, che è ancora sotto shock, verrà interrogata nei prossimi giorni e non si dà pace. Ho cercato di fermare l'auto con le mani quando ho visto che prendeva velocità e mi superava. È accaduto tutto in pochi minuti. La signora arriva poco prima delle 14.30 all'asilo primo maggio di Pile, frazione dell'Aquila. Deve prendere le figlie di quattro anni, parcheggia e lascia in auto il figlio dodicenne. Tra le prime ipotesi, quella che il bambino abbia tolto il freno a mano. Alcuni testimoni l'hanno visto al posto di guida che cercava di sterzare per evitare il cancello della scuola. Con l'aiuto di una psicologa, il ragazzino è stato sentito dagli inquirenti, ma non ricorda niente. I tecnici della procura eseguiranno a breve controlli sulla macchina sequestrata e l'esame sul freno a mano elettronico, la cui centralina di controllo memorizza il funzionamento. Ho sicuramente lasciato la marcia in granata. Non ricordo di aver tirato il freno a mano, ha detto la donna. Subito dopo, la Passat ha investito in piano un gruppetto di sei bambini. Io e tutta la mia famiglia non riusciamo a darci pace, ha detto, scusandosi con le famiglie coinvolte e in particolare con i genitori della piccola vittima. All'Aquila è stato proclamato il lutto cittadino fino al giorno del funerale. Intanto migliorano le condizioni del più grave dei piccoli feriti. Allora, vi devo un aggiornamento. Il numero 2 del battaglione, del reggimento Azov, Palamar, detto Calina, è ancora nell'area di Azovstal. Non è vero che si è arreso, che si è consegnato, è lui stesso a dirlo in un video, è accanto a tutti gli altri ufficiali del battaglione. E anzi, stiamo facendo, è in corso un'operazione i cui dettagli non annuncerò. Grazie al mondo, grazie all'Ucraina, ci vediamo. Queste le sue parole in un videomessaggio brevissimo diffuso questa sera. Dopo di noi, a 8 e mezzo, Lily Gruber ospita Lucio Caracciolo, Alessandro De Angelis, Luca Telese, Martina Pignatti, a Piazza Pulita. Tra gli ospiti, ovviamente, di Corrado Formigli, spicca Ann Appelbaum, ma c'è anche Vanessa Nakate, attivista per il clima, e Marco Minniti, Selvagio Lucarelli, Cecilia Sala. Ci fermiamo. Poco variate le borse, Milano ha perso lo 0,09%, come stiamo vedendo insieme. In questo momento, Wall Street vede il Dow Jones per dello 0,54%, il Nasdaq che ha fallito il rimbalzo, ora guadagna lo 0,27%, è tutto Gruber, Formigli, se volete ci vediamo domani alle 17, se no domani sarà le 20, buona serata.